Come sappiamo dopo l'addio di Lina Suluku alla Roma la società capitolina è la ricerca di un nuovo CEO quindi di un nuovo amministratore delegato e si erano fatti in questo periodo in queste ultime settimane molti nomi come ad esempio Antonello dell'Inter e Carnevali del Sassuolo però un pochino le posizioni si stanno delineando. Antonello sembra sempre più lontano da firmare con i giallorossi nonostante si diceva che fosse in uscita dall'Inter mentre Carnevali non si direbbe convinto dal progetto ma fondamentalmente Carnevali sarebbe stata più un'opzione per l'estate perché comunque da anni si sa che Carnevali è legato al Sassuolo ha un legame forte con il Sassuolo e avrei avuto molte difficoltà a immaginarlo lasciare il Sassuolo adesso in B per approdare alla Roma. Ma di base c'è il fatto che Carnevali ha qualche dubbio su questa carica fatto sta che da un po' di giorni si fa il nome si fa un nome un po' sorpresa vai a dire quello di Marzio Perrelli attualmente è dal 2018 vicepresidente di Sky Italia vicepresidente esecutivo ma in primis dobbiamo andare a vedere fondamentalmente chi è il CEO perché c'è un po' di definizione anche perché prima era definito semplicemente amministratore delegato che era molto più chiaro adesso il CEO che sarebbe il chief executive officer vai a dire colui che rappresenta il consiglio di amministrazione e appunto dal consiglio di amministrazione gli vengono fornite determinate deleghe. Cosa molto importante è che l'amministratore delegato appunto perché è delegato ha il potere di firma quindi rappresenta anche dal punto di vista decisionale sotto alcuni aspetti il consiglio di amministrazione. Ovviamente non ha tutti i poteri decisionali perché ad esempio non può redigere un bilancio oppure approvare o meno un aumento di capitale cosa che è comunque diciamo demandata nei compiti al consiglio di amministrazione. Quindi questo cosa fa capire? Fa capire che fondamentalmente l'amministratore delegato non deve essere per forza un uomo di campo ma è più un vero e proprio manager e per rally ha una carriera alle spalle veramente importante. Perché comunque da inizio del 2000 esperienze con ad esempio con Goldman Sachs ha fondato mi pare una sorta di cooperativa società insomma in Svizzera appunto dal 2018 è vicepresidente esecutivo di Sky Sport Italia anche se si occupa di altre cose. Ma la cosa importante di un amministratore delegato e in questo caso di per rally è che abbia competenze a livello finanziario di credibilità e soprattutto che sappia diciamo così interpretare e gestire una situazione finanziaria. Quindi avrebbe delle grandissime responsabilità diciamo delle quali insomma i Friedkin l'hanno investito soprattutto perché i Friedkin molte volte sono fuori non sono a Roma e quindi in questo caso per rally starebbe a Roma o comunque in Italia e anche qui è una cosa molto importante. Perché da questo punto di vista sono molto nazionalista. Per queste cose deve esserci un italiano che conosce il mondo italiano appunto, la realtà italiana e da questo punto di vista magari ha delle conoscenze a livello calcistico perché giustamente poi i rapporti li stringi. Quindi conoscenze che è diverso che avere competenze perché ogni società deve essere ben distinta, deve avere ruoli ben distinti, deve avere compiti delineati che poi tutti si vanno a interfacciare. Quindi avere per forza un amministratore delegato che ne capisce di calcio, raga, non frega niente, non frega niente a nessuno, come il discorso della gente. Fondamentalmente la gente, intendo quello dei calciatori, è meglio se capisce di calcio perché se capisce di calcio magari può proporre un giocatore a determinate squadre in base a delle esigenze che possono essere reali o magari immaginate dalla gente stesso per anticipare i tempi. Ma fondamentalmente la gente, ragazzi, è un businessman, quindi l'importante è che concluda i contratti. Punto. Questo è il ruolo principale della gente. Ne frega niente che, no perché il terzino moderno fa questo, fa quello, è un punto in più. Ma se la gente ha conoscenze e abilità di concludere i contratti, raga, o per meritocrazia o per amicizia, quello è il ruolo fondamentalmente della gente. E il CEO fondamentalmente ha la stessa cosa. Cioè il CEO per rally, ne frega niente che deve, no, il 4-4-2, il 4-8-3 perché Ragneri ha, deve avere skills manageriali. gestire delle situazioni. Lui ha l'anello di congiunzione tra la società e tutto il lato economico e comunque di trattative che deve andare a fare con altri club. Per un giocatore. Ma non è il CEO che deve per forza perdere calcio perché individua il giocatore. Perché ci sono tante altre cariche sotto. Il dietro sportivo, il capo scout, tutto lo staff degli scout. O magari se c'hai due scout, uno per l'estero e uno per l'Italia, così come è l'Atalanta con Congerton ed Amico. Quindi non sottovalutiamo il discorso di per rally alla Roma e magari dite, eh vabbè, ma questo qui sta Sky. In primis perché comunque è una figura legata a Malagò. E sembra che lo stesso Malagò abbia dato assenso a questa carica. Cioè, nel senso detto favorevole. Malagò è il presidente del CONI. Non so, parlando di un pierletto qualsiasi. E poi, ripeto, non sottovalutiamo questo nome. Perché comunque uno che ha certe... Ha un mindset settato sull'amministrazione. Sul gestire certe tematiche a livello finanziario. Perché comunque lui gestisce anche i diritti TV per Sky. Quindi non è uno che non ha le mani in pasta né il danaro. La sensazione è che però con per rally si avrebbe un amministratore delegato molto tecnico. Per fare magari un paragone con la politica, ecco, Mario Monti per l'Italia a suo tempo. Che poi secondo me Mario Monti ha fatto il delirio nero, ma questo è un'altra roba, governo tecnico. Quindi una sorta di amministratore delegato, tra virgolette, tecnico. Che in questo calcio moderno rappresenterà il lato finanziario dei Fridkin con la Roma. Quindi un qualsiasi investimento. E magari probabilmente anche il rinnovo o meno di Polo di Bala. Potrebbe essere, con danno che poi rinnoverebbe a 7 milioni di euro, annui netti. Magari potrebbe passare tranquillamente questa decisione appunto a Marzio per rally. Quindi, ripeto, non fatevi ingannare dal fatto che, e vabbè, non ho mai lavato nel calcio. Perché poi lì c'entrano altre skills. Perché quando è andato a Sky, uno poteva anche pensare, questo qui ha lavorato per Goldman Sachs. Che ne capisci di TV? Però ragazzi, il 2018 che è lì? Fanno sette anni nel 2025. Quindi non prendiamolo proprio come, eh? Sprovveduto in materia finanziaria. E ricordo, il CEO non deve sapere di calcio. Deve sapere gestire certe situazioni finanziarie e saper rappresentare bene il Consiglio di Amministrazione comunque durante le riunioni, avendo anche il potere di firma. Questo è quanto. Fatevi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se conoscivate Perrelli, come lo vedete, magari se preferivate Antonello o Carnevali. Anche perché è una persona un po', essendo una persona esterna dal calcio, magari dà una visione diversa rispetto a Carnevali che ha inserito, Antonello che ha inserito. Sono curioso. Vediamo un po' cosa eventualmente farebbe Perrelli alla Roma. Certo è che comunque sembra che il suo nome abbia scalzato prepotentemente quelli di Antonello e di Carnevali. Quindi non c'è che aspettare a vedere se effettivamente il 56enne romano, ma pare che sia Juventino, aspettiamo a vedere se lui sarà chiamato a rivestire questo ruolo di CEO. Nella Roma di Friedkin, fatemi sapere nei commenti la vostra impressione. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti